30 kg di sigarette di contrabbando stipati in due valigie imbarcate nella stiva di un volo per East Midland. A tentare di portarle in patria un 43enne e una 50enne inglesi scoperti al Canova dalla Guardia di Finanza di Treviso e dai colleghi dell'Agenzia delle Dogane. L'attività nasce dai quotidiani controlli che vengono svolte all'interno dell'area portuale dell'aeroporto di Treviso. Il sequestro è avvenuto in due particolari momenti. In un primo momento è stata fermata la cittadina inglese che aveva stivato la propria valigia e a seguito di un ulteriore controllo delle liste d'imbarco è stato rintracciato il secondo cittadino che l'accompagnava. I due in partenza dopo un breve periodo di vacanze in Italia hanno finto di non conoscersi per non dare troppo nell'occhio e in un aeroporto affollato di viaggiatori speravano di farla franca. Non hanno detto dove hanno comprato le 150 stecche di bionde per la finanza un episodio che merita un approfondimento. È atipico come sequestro. Generalmente il contrabbando avviene dai paesi dell'est europeo verso il territorio nazionale. In questo caso abbiamo un contrabbando verso l'esterno. A questo punto stiamo sviluppando delle nostre indagini a fine di stabilire se nel territorio dello Stato si potremmo trovare un deposito all'interno del territorio nazionale. In patria avrebbero rivenduto le sigarette a 7-8 sterline al pacchetto. Qui le avevano pagate appena 2 euro. Ora i due denunciati rischiano una vera e propria stangata. La sanzione prevede 5 euro per ogni grammo di TLE sequestrato e quindi avremo una sanzione di 150.000 euro. E appena ancora più grave è la reclusione che va dai 3 ai 5 anni.